Federalberghi Pescara ha presentato questa mattina a Montesilvallo un'iniziativa intitolata Assessore in Reception, una iniziativa fortemente voluta dal sindacato degli albergatori e che vuole pubblicizzare il contatto diretto con la cosiddetta trincea dell'accoglienza in città e quindi far percepire agli amministratori locali direttamente le esigenze di chi sceglie le nostre località per le proprie vacanze e avere quindi un rapporto diretto con il turista. Per noi è importante trasferire questa esperienza perché permette di raggiungere effettivamente l'obiettivo che è quello di far star bene il nostro ospite turista. Una iniziativa fortemente voluta da Federalberghi. Sì è una delle tante che stiamo per mettere in campo anche a seguito della pandemia che purtroppo ci ha costretti a stare chiusi al nostro interno quindi anche per i cittadini presto ne arriveranno delle novità. Siamo ad agosto nel pieno delle vacanze estive. Federalberghi è soddisfatta di come sta proseguendo la stagione estiva nella nostra regione in particolare nella provincia di Pescara? Sta andando molto bene incrociamo ancora le dita perché comunque finché non passiamo il giro di boa adesso ecco il 15 di agosto è sicuramente la data più calda però abbiamo delle buone pronotazioni anche proprio per la fino alla metà di settembre e anche oltre con il turismo sportivo quindi il nostro territorio piace viene scelto quest'anno è stato confermato da tanti italiani che comunque hanno scelto la nostra destinazione. Per l'occasione è stata anche presentata la nuova cartina studiata proprio da Federalberghi di Pescara dedicata ai turisti dell'area metropolitana Pescara-Montesilvano. Questa è una city map nuova dove è presente questa fusione tra Montesilvano e Pescara e va ad ampliare quella che è l'offerta turistica quindi il turista ha l'opportunità di avere dei punti ben definiti dove sono anche presentate degli eventi, delle iniziative pubblicizzate anche dal Città Sant'Angelo Village. Ci sono tutti i punti dove il turista può andare ad ampliare la sua esperienza durante il soggiorno. Speriamo che questa iniziativa continui nelle prossime stagioni perché è un'opportunità di far conoscere meglio il territorio al turista.